associerà, contribuisca al superamento del clima di caccia alle streghe, per cui quando una malattia si complica o un paziente muore, è sempre colpa di qualcuno, a prescindere, prima che la giustizia affronti il caso. E ricordo che la medicina difensiva danneggia prima di tutto il cittadino e che in medicina, come in ogni altro ambito, l'errore esiste. Grazie, onorevole Amato. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà le ore 14.45 con il seguito della discussione generale del test unificato. La seduta è sospesa. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.